Una presentazione non conoscevole, mi ringrazio, della settimana, dici? Ma sai, io poi mi metto a leggere anche tanti altri libri, ho trovato che la stessa generazione crescita dell'essere umano segue anche quella lì i pianeti. Se noi guardiamo da quando nasciamo a quando moriamo, vediamo che ogni pianeta ha il suo compito in un determinato tempo, che generalmente si sviluppa ogni sette anni. Da quando nasce, nove mesi, il nove sta nella pancia, il bambino che poi vede la luce, quindi sta in oscurità, nove mesi, va la luce. Dall'uno ai sette anni ci sta dietro la luna, il bambino sta crescendo tranquillamente, il pianeta è più vicino. Successivamente, dai sette ai quattordici è Mercurio, un bambino, una bambina che sia, non sta mai fermo, è sempre in giro, come l'è Mercurio, tecnicamente, sopra, sotto, riguarda. Poi dai quattordici ai ventuno entra in gioco Venere, si sviluppa tutta la dinamica ormonale, l'uomo si definisce, la donna si definisce, iniziano i primi amori. Poi, da 21 a 42, entra in gioco il sole, perché un uomo e una donna sono già formati e devono svolgere il loro ruolo sociale, il compito nella vita. In quel caso lì il sette si raddoppia, perché il sole deve farti arrivare all'età migliore, secondo Dante era 35, però diciamo che in questa dinamica fino ai 42. Poi successivamente entra in gioco Marte, perché se te hai lavorato bene nel periodo del sole, Marte ti permette gli ultimi sforzi perché hai una capacità fisica, diciamo, buona, hai l'esperienza di vita e sei fatto le cose a modo, sei riuscito a crearti un ecosistema per sopravvivere, far sta bene le persone intorno a te. Quindi da 42 a 49, successivamente entra Giove, dai 49 ai 56, perché arriva il momento in cui se uno si è comportato bene, ha vissuto una vita etica, è quando dai consigli giusti che possono essere ai nipoti o a chi che sia. Dai 56 poi ai 63 rientra in gioco Saturno, che sta iniziando a sviluppare il percorso di arrivo, come dice Dante, al porto della vita, e poi successivamente, da 63 in poi, diciamo che rinizia sotto il pianeta di Saturno, rifacendo lo stesso percorso con gli altri pianeti. Però già a un'età dove si diceva, quando arriva ad essere un pochino anziano, torna ad essere come un bambino, perché dopo torna la Luna, Mercurio, se vai là. Poi arriva il momento che lo chiama nostro signore, Saturno prende il falcetto e le... Grazie a voi per essere venuti qua.